Questa collana, che fa parte della collezione Eden, è un capolavoro assoluto. L'idea di creare una collana indossabile in diversi modi, quindi solo la collana con i diamanti, con gli smeraldi e poi diventa anche una tiara, oppure solamente un choker di smeraldi. Sembra quasi un tessuto, prendendola in mano ha una morbidezza eccezionale. Volevamo fare una cosa che fosse veramente unica al mondo. È come avere un capolavoro tra le mani. Posso dire che abbiamo superato tutte le sfide, ma siamo pronti per la prossima.